SIGLA Allora, biscottini bio car furfarro e cioccolato, 250 ml di latte, Zimil ovviamente, quello senza lattosio, magro, digeribile, 50 grammi di proteine isolate della Scitec, salute! Allora, avete intuito dal titolo di cosa parlo? Ovviamente no! Goblet Squat Allora, partiamo da un presupposto Se uno viene in palestra, mi assume come personal trainer, come a volte accade, va bene, iniziamo Senti, vorrei imparare il Goblet Squat Allora, l'ho scoperto, che poi so che cos'è, io lo chiamo in un modo diverso Un front squat con manubrio al petto Ora, poi ci saranno anche altri Goblet, ma non sono andato neanche a vedere, perché che cazzo me ne frega Ve li dico Allora Bellissima sta cosa Goblet Squat, l'ho visto su Project Invictus Enrico, conoscete tutti, ormai è di fama mondiale, su web, soprattutto nei canali piccoli, ma non solo, perché è un criticone, è conosciuto dappertutto Usa l'accanto della moglie, pediatra Paola Paola, pediatra Paola, benissimo È un amico di web, diciamo così È un web amico, un web friendly E basta, avete capito Beh, mi ha fatto vedere questo servizio, ogni tanto ci parliamo su Messenger, così Mi ha fatto vedere questo servizio allenamento per la donna a casa del Project Invictus Interessante E me lo sono andato a guardare, perché di solito le cose che mi propone lui, 9 su 10, mi interessano anche Poi può capitare, la volta che sei in disaccordo, per carità, è normale Ora, sono andato a vedermi e c'è questa tale, non mi ricordo il nome, Ambroggi di cognome, campionessa WBNF del mondo Vabbè, ho fatto una battuta riga che mi ha fatto morire, non la posso ripetere Non è volgare, ma la evito E fisicamente, quando l'ho vista, sinceramente, è vero che nelle donne c'è un marasma Non sono contrario alle varie categorie Figures, bini, bikini Muscular bikini Figures, bikini Minga qui figura Lo dici anche in milanese, non anche in inglese Figures Non figures Ma figures Che vuol dire figure di milanese Eeeh Vabbè Insomma A me, sinceramente, fisicamente, questa donna non mi dice veramente niente Poi, per la sua categoria, non sarà in preparazioni, tutta una serie di motivazioni E va bene Queste federazioni sono quelle dove mettono dentro, almeno qua in Italia Non so se è proprio lei, ma appartengono più o meno a quella categoria lì Di quelle che mettono dentro il poligrafo, il test lì della verità Quelle cose Dove vai a vedere le gare di questi qua E sono tutti secchi Non è una critica, è un dato di fatto Non c'è niente di male Perché i natural sono così Va bene Ok E Enrico è entrato nel discorso Obiettando Lui ha dei modi più crudi dei miei Io e il Project Invictus, tra l'altro Sono uno che Un abbastanza un estimatore di Biasci In particolar modo Poi non sempre sono d'accordo Ci sono delle volte Che, secondo me, non è che dicono castronerie Però entrano in delle tematiche Con un atteggiamento della serie A volte, non sempre Fanno un po' quelli No, però bisogna guardare tutto Poi tirarle somme Però i migliori siamo noi Cioè, è come se mandassero questo messaggio Implicito, non esplicito È una mia impressione Punto Poi c'è chi sarà d'accordo e chi no Ma fa il tuo culo Non a loro, non a voi In generale Detto ciò, ci ho detto Dove che voglio arrivare? Il punto dove voglio arrivare? E queste categorie Infatti il titolo, direte, non c'entra un cazzo Invece c'entra Perché, secondo me, soffrono un po' L'americanizzazione È una mia interpretazione Anche questa cosa di proporre questi allenamenti Con questi termini Goblet squat Che esiste, c'è Se tu non lo... Adesso mi immagino le risposte Ma se tu non lo sai Perché sei ignorante E sei un trainer Che non capisce un cazzo E non sa un cazzo Va bene A me se prima veniva in palestra E mi disse Uno sbarbate Dei diventare Una ragazza Eh, ascolta Mi insegni il goblet squat Ascolta, guarda Guarda la porta Vedi come sei entrato Prendi, gira la maniglia La rovescia E riesci Sto esagerando Però, voglio dire No C'è questa americanizzazione C'è questa Che fa anche sorridere Questo è un dettaglio Del ragionamento A cui voglio arrivare Il punto è un altro Questi ragazzi Che vincono questi mondiali Io, quando uno vince Gli do sempre ragione Perché vincere È difficilissimo In questa categoria E quindi Anche quando il livello Magari può Però devi Può essere scarso Però devi essere lì Devi esserti preparato Quindi A quest'ambrogio Va tutta la mia Solidarietà Per carità di Dio Perché se uno gareggia Merita rispetto È meritevole di rispetto Solo per quello E io Forse con Enrico Abbiamo due modi Di vedere le cose Diverse E rispettabilissimi Entrambi Credo Però Diverso Però C'è il rovescio Della medaglia La verità È che se tu la guardi Fisicamente Che cos'è Cioè Non voglio essere cattivo Ma è Una bodybuilder Oppure Tutte queste 3000 Sono le categorie Perché poi cambia Da federazione A federazione Per dire Il nostro Nathan Nostro Nathan War Machine Ha vinto Ad Acapulco Il titolo Di Men Physique Muscular Muscular Io non sapevo neanche che esisteva Sapevo il men Physique Ma c'è anche Muscular Per dirvi No Figuratevi Nelle donne Come viene incasinata All'ennesima potenza Tutto questo Miscuglio Questo Vortiginoso Questa Rotella Da criceto Dove girano dentro Tutte le ragazze In miriadi Di categorie Che a me va bene Perché almeno Tutti possono gareggiare Però c'è da riconoscere Nella realtà Dei fatti Non è una critica Tanto all'Ambrogi Né tanto meno Al Project Invictus Ma Alla situazione in sé Che si è creata Che alla fine I livelli Scendono È un po' come Il pugilato Tanti e tanti anni fa C'era Una federazione Un campione del mondo E Per batterlo Dovevi essere Veramente uno bravo Adesso Chiaramente 3.000 federazioni Meglio Perché tutti hanno La loro occasione Lo sport ha visibilità Gira più denaro Insomma Tutti possono avere La loro Chance Chance Va bene Di fatto Ed è un fatto Cazzolina Il livello Si abbassa Quindi Dove voglio arrivare Meritevole Rispetto A 100% Per questa ragazza Perché ha vinto Un mondiale E non glielo si può togliere Nessuno glielo può togliere Di contro Il livello Dei natural Ovviamente Già di per sé Ma a maggior ragione In queste 3.000 categorie Sicuramente Da un punto di vista Qualitativo Secondo me Un pochettino Ci perdi Niente di male Va bene Però No Non so come dire Può sembrare cattivo Ma uno mi dice Ciao Tu sei la campionessa mondiale VBNF Della categoria Figur Non mi ricordo neanche Che categoria Per dirvi No Come ti rimangono in pre Perché sono talmente tante Che Bikini Figur Figur Muscular Muscular Atletic Essential Ma ce ne sono Madonna Signore Benedetta No In sostanza Va bene Così Enrico Rimane un criticone Di quelli pesanti Però Proprio tutti i torti Non ce li ha Forse il modo A volte un po' Pressante Usiamo questo termine Però tutti i torti Io in un commento Ho letto Chissà il livello Qual era No E forse Non ha Tutti i torti Fermo restando Che Non voglio Lecarecule Nessuno ci mancherebbe Non sono proprio il tipo Sono convinto Che Project Invictus Sia Un buon canale E Una buona strada Per chi vuole seguire Poi Non sempre Hanno ragione E loro sono i primi A dirlo Quindi Al di là di questo Volevo dire Per precisare Che non ce l'ho Con Project Invictus Quando ce l'ho Con uno Ce l'ho Che non mi piace Una questione Una persona Un canale Un atteggiamento Faccio un esempio Non faccio Novi Master Wallace Cioè Lo dico Non è che odio La persona Però Uno che mette La maschera Non mi piace A prescindere Da qualsiasi discorso Che faccia Poi puoi fare Dei discorsi buoni Utili Cioè Purtroppo Se oggi Non ti schieri Gli iscritti Le visual Non le fai Se sei un povero Ciulone come me Nel senso Pane al pane Vino al vino Dove cazzo Puoi andare Gli algoritmi Di youtube Non ti bruciano Perché non rendi Quell'interesse Infatti Io quando L'ho già detto Metto nei titoli I nomi Degli altri youtuber E faccio un dissing Le visual Quando metto Discorsi tecnici Allora Uno dice Perché i tuoi I tuoi temi tecnici Fanno schifo Ma no Non è vero Ma no Non è vero Non è quello E proprio Come posso dire La tendenza Che ha preso Il tubo Non c'è niente Da fare Lazzarine rossi Insegnano Che alla fine Si è scoperto Che era tutta una presa Per i culi I loro dissing Per dire No poi l'hanno ammesso E secondo me Hanno fatto una casa Terramiglio Che non dicevano niente Comunque Non facciamo digressioni Questo è quanto Volevo fare Sto video Proprio per dire Che È vero Che i livelli qualitativi Del bodybuilding O di tutto quello Che gravita Intorno al bodybuilding Un po' È sceso È una realtà Tutto qua You know Bye Ciao a tutti Sì Ciao a tutti Ciao a tutti